La sindaca Cecilia-Francese si adegua al verdetto positivo del campionamento dell'ARPAC e revoca il divieto di balneazione. Quindi buona parte del mare che bagna il litorale battipagliese è balneabile. Nella zona Spineta i bagnanti potranno nuotare senza alcun divieto. L'ordinanza sottoscritta dalla sindaca, dal dirigente tecnico Carmine Salerno e dall'architetto comunale Angelo Costantino è già stata notificata ai titolari dell'area in questione, che da anni fa i conti con i divieti di balneazione. Un tratto di costa lungo 959 metri, che ora torna balneabile. Lo è da tempo pure la parte più vasta, quella che si estende a sud, fino al confine con il territorio del comune di Eboli. Sono positive pure i risultati degli ultimi campionamenti che sono stati effettuati nel lotto più a nord, vicino alla foce del fiume Tusciano, lungo quei 530 metri, ma al momento si deve ancora attendere prima di revocare il divieto di balneazione.